Da domani, primo febbraio, sarà necessario presentare il Green Pass ottenibile tramite vaccino tamponio certificato di guarigione per entrare nei principali uffici e attività, poste, banca e negozi, titolari o gestori degli esercizi possono effettuare dei controlli a campione. Resta consentito il libero ingresso, tra gli altri, nei negozi di generi alimentari, in quelli per la vendita di cibo per animali domestici, nei distributori di carburante, nei negozi di vendita di articoli igienico-sanitari, in farmacie, parafarmacie e ottiche. Per il resto occorre il Green Pass. Le associazioni di categoria sono preoccupate. Confartigianato aveva lanciato da poco una campagna per la vendita, per comprare nei negozi di prossimità ed ora c'è lo spauracchio dell'online. Claudio Cornacchia, titolare dell'omonima tabaccheria qui in via Firenze a Pescara. Da domani dunque scattano le nuove regole per il Green Pass. Primo febbraio. All'inizio, appena uscita la notizia, naturalmente i nostri referenti sindacali nazionali si sono allarmati e allertati e sono stati ricevuti dal sottosegretario alla Sanità, al Governo, per comunque far presente questa anomalia, in quanto un anno prima sotto lockdown eravamo un'attività essenziale che ha assicurato alla clientela comunque quei servizi essenziali come la ricarica di un telefono cellulare oppure il pagamento di un'utenza dell'elettricità, cose essenziali in ogni famiglia. Per evitare assembramenti negli uffici postali, nelle banche, abbiamo aiutato il Paese a comunque uscire da questo problema e comunque assicurare un servizio continuo su tutto il territorio nazionale. E quindi abbiamo chiesto che comunque questo Green Pass di colpo a noi sembrava un controsenso. È rimasto l'obbligo dell'esposizione esterna del cartello che indica l'obbligo di presentazione del Green Pass, ma diciamo che è stato evitato il controllo persona per persona all'ingresso del locale. Ci sarà un controllo a campione, a discrezione del titolare dell'attività. Andrea Di Toro, H. Shop, titolare del negozio di abbigliamento qui su Viale Bobbio a Pescara. Se chiudiamo noi, diciamo che la città diventa brutta, quando vai in centro e vede le vetrine vuote, sono brutte. Quindi se danno una mano a noi piccoli commercianti, a meno che prima passo da loro, dopo se non trovo compro online. Sono impaurite le persone, nel negozio non ci va. Noi siamo uno dei luoghi più sicuri perché comunque facciamo rispettare le regole, entrano non più di cinque persone dentro i locali, ma di più cosa dobbiamo fare? Noi le regole le stiamo rispettando, ma siamo stremati, non ce la facciamo più. Siamo nella libreria Copisteria Arcobaleno Copi con Luca Valletta. Domani entra in vigore il famoso Green Pass. Quali sono le vostre perplessità? Le nostre perplessità sono principalmente a livello organizzativo, perché giustamente controllare il Green Pass a ogni persona sarà un lavoro immane, anche perché noi facciamo lavori di servizi rapidi. Quindi giustamente controllare il Green Pass a ogni persona sarà veramente difficile. C'è un po' un paradosso che nel primo lockdown eravate invece considerati i negozi di prima necessità? Effettivamente sì, anche perché i clienti che vengono da noi vengono serviti abbastanza rapidamente, quindi è un problema ulteriore per il controllo di ogni Green Pass. Ci saranno controlli a campione, però lei prima mi ha detto, ad esempio, i Green Pass stranieri alcuni non vengono riconosciuti, in che senso? Sì, proprio questa mattina ho verificato che un Green Pass della signora Ucraina purtroppo non lo riconosceva come Green Pass autorizzato, quindi ci mette pure in difficoltà con le persone che mi risulta non valido e quindi non potrei farlo entrare dentro l'attività.